Non so, stiamo facendo E' delicatissimo E ovviamente che ore sono è luna sotto il sole Non so se rende Vai Sanpei Buongiorno, oggi stiamo lasciando Chiang Mai Direzione Koso Si va al mare e questo è il nostro mezzo oggi Daxi, aspetta Come a Cravi, a Cravi è anche così Daxi Ho chiuso un po' lì di sole Partiti da Chiang Mai, siamo arrivati a Koh Samui in un'ora e mezza Questo è un volo che abbiamo preso con Balcock Airways Ed è un volo diretto da Chiang Mai a Koh Samui Solitamente tutti gli altri voli fanno a Scala Bangkok Ma questo è veramente tra le migliori soluzioni Perché è l'una, ora sono le due Ma siamo arrivati a l'una Io vi faccio vedere il nostro alloggio per i prossimi giorni Ho sempre notato su Booking e sono troppo felice È quello che sognavo da sempre Ma io non so se siamo pronti Sono troppo felice Ok Siamo letteralmente sulla spiaggia Aspetta un secondo Oh vai Non vedea l'ora Guarda là Guarda come l'esce Sono uscita veloce È arrivato il cocco Meraviglia Prima sera a Koh Samui Il nostro mantra di Night Market È fallito, non lo so Siamo andati, l'abbiamo trovato Ma era totalmente fuori budget Cioè costava tantissimo Dobbiamo studiare Dobbiamo studiare Quindi siamo capitati Secondo me non male In un bel ristorantino C'è una griglia ragazzi Ha una griglia pazzesca All'interno è un po' troppo occidentale Oltre che al grigliato Cosa che era un po' il focus Sempre stato, soprattutto l'anno scorso Ora hanno introdotto la cottura al vapore Cosa che ovviamente loro sanno fare Perché tra tutti i bagari ravioli eccetera Solo che il pesce al vapore l'anno scorso Io non l'ho mai visto Quest'anno pieno Quindi sono molto contenta Vabbè, può essere al sicuro Ma lo tiene in caldo? Certo Guarda, guarda Wow Questa mattina ci siamo svegliati presto Sono le sette Buongiorno Per Vedere l'alba E poi ci siamo sotto le case in parte E E Una testina d'aglio E' buonissimo E' buonissimo, buonissimo E' delicatissimo E' delicatissimo E' mangiarli anche tutti insieme Agli allietti No Meglio così perché non presta Prendi insieme centrale E' amarissimo Questo è anche di Alkekenji Buongiorno da Koh Samui Ci aspettano tre giorni su questa isola Per esplorarla Esplorare tutti gli intorni Sono seduta sotto un negozietto dei tour Per acquistare il nostro transfer Tra Koh Samui e Koh Tao Che sarà tra tre giorni E' una cosa che bisogna fare subito Perché le ferries e i transfer non sono tantissimi durante il giorno E quindi si riempiono molto molto velocemente Quindi ieri siamo arrivati Abbiamo avuto il tempo di prenotare lo scooter E farci un'idea un pochino Del posto, dell'isola, dove andare Eccetera Ma aspettando che con calma arrivino Dovevano aprire le 10 Sono le 10 e un quarto Perfetto Lenti Qui il mood è con calma E oggi andremo all'esplorazione dell'isola con lo scooter Direzione nord per il mattino Poi ci sposteremo a Ovest Per vedere il tramonto sul mare Ovviamente siamo venuti qua principalmente Per fare snorkeling e diving Portiamo le pinne E io dimentico le nostre maschere da diving Ma non è importante Non sono fondamentali per fare snorkeling Ah no, non è vero Sono tipo la cosa principale Ma vabbè Sampai on the bike Era improbabile trovare a CosaMui Una spiaggia con accesso così Ma Sì E ovviamente che ore sono È luna Sotto il sole Pranzo a base di tofu verdure Tofu Posso dire che sinceramente non so Sotto perché puoi mangiare sul mare No Ti farai un video in queste condizioni Sotto Questo è censurato Sotto Sotto Stamattina ci siamo svegliati presto Sono le 7 Buongiorno Per Vedere l'alba E poi Sotto le case In partenza Oggi pranzo Silver Beach Con i piedi Direttamente Sulla sabbia Meraviglioso Fronte Mare Con Verdure Riso Pesce Direi Chi food Direi che si mangia molto bene Molto molto bene Un cechetto Guarda come respira Ok Però Ci vorrei stare io Credo di poter dire Al 100% Di essere Di essere sulla spiaggia Per trovare acqua più pulita E per trovare acqua più pulita E fare snorkeling Bisogna andare a largo alle isole Questo tendenzialmente Comunque è un po' per tutta La Thailandia Per trovare acqua più pulita Per trovare acqua più pulita Per trovare acqua più pulita Cina vegana Per me Dimmi E vabbè Sembra preoccupata dei nostri bagagli Noi i tour si va organizzati Buongiorno Ultimo giorno pieno a Koh Samui Abbiamo deciso di andare a visitare il parco marino nazionale di Hong Kong Che è proprio qui accanto E abbiamo prenotato tramite l'agenzia Koh Samui Vi lascio poi tutti i link qui sotto Per vedere tutti i tour che si possono fare E siamo pronti a partire per una giornata di snorkeling, relax, mare cristallino E anche un po' di hiking Quindi siamo portate anche le scarpe In strada di divertirsi Siamo super esaltati oggi di andare a fare un pochino di salutini ai pesciolini Ora abbiamo fatto il check-in E siamo pronti a salire sulla speedboat Sperando che quest'anno Non ci sia un uradano E acquazzoni Segue clip dell'esperienza dell'anno scorso E' un po' di più E' un po' di più Woohoo! Dopo la prima sosta snorkeling ora siamo arrivati alla salita per andare a vedere il lago. C'è questa pensilina, vi giuro, mi sento ubriaca. Si sono messi le scarpe da ginnastica, si sale su! 10 minuti di scalini dice. Si lascia il mare, si fa una scalinata di nulla. Andiamo ragazzi, vi sportiamo a noi in un 360 che vale la pena, 180, via. Guarda, che meraviglia, che posto stupendo. Che meraviglia. Voglio vedere la rifalla tutta all'insù. Dai, un po' di sport. Si si, a voi. Guarda, lui ci attende. Raga, non so se rende. C'è una nuova pendenza. Io credo del 90%. Non so se rende. Senza scherzare. Ora andiamo perché siamo in ritardo ovviamente, come sempre, siamo gli ultimi. Sì. Direi che fanno tirare su un pranzo dal nulla davvero. È pazzesco. che acqua. Vai, Sanpei. Io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Che meraviglia. Ma sta, sei sta? No, no, no. Jimmy, ma perché? Dovete sapere che Jimmy è molto competitivo. Quindi nel rientro ha dovuto superare tutti gli altri kayak. Ma non mi stai lì tanto, lo abbiamo fatto più grande anche. io non so se siete pronti andiamo, andiamo è tipo la stanza più bella che spettacolo vado a sto letto che cosa meravigliosa che cosa meravigliosa ma soprattutto andiamo, andiamo fuori sì vabbè, ciao questo è il paradiso questo è tipo la definizione di paradiso tu ce l'hai, eccola ah, lì c'è la piscina lì qui c'è tutto snorkeling spots vedi la gente a fare snorkeling tutto questo è snorkeling tra l'altro per fortuna dicono che è anche una delle più belle zone per farlo e ci sono anche gli squaletti ci sono anche gli squaletti ci sono tanti squaletti e Jimmy è molto preoccupato al riguardo ma andiamo a vedere il bagno questo letto è pazzesco che bello la doccia vabbè la doccia abbastanza sì meraviglioso arrivati pranziamo ho preso un po' di tutto questo è il bar della struttura vista mare wow buongiorno ci siamo svegliati con questa vista spettacolare e ora siamo in direzione colazione la particolarità e bellezza di questo resort è che è completamente immerso e contestualizzato dentro la natura quindi sono praticamente questi bungalow ma sono tipo nei terrazzamenti della montagna e veramente dal mare si nota ma in realtà non troppo quindi sono è veramente bellissima questa cosa esatto sono proprio immersi e rendono tutto ancora più bello più natura Kotao ci sta piacendo tantissimo ieri sera abbiamo fatto un giro in centro siamo andati a cena ci sono delle vibes pazzesche sono dei localini troppo localini bellissimi tutto sul mare molto tranquillo poi si sta lì seduti per terra c'è queste vibes proprio da piedi scalzi dove vai nei locali devi toglierti le scarpe per entrare nei ristoranti nei negozi Kotao è meravigliosa ora stiamo scendendo a far colazione e si passa attraverso questo che meraviglia si passa da qua buffet della colazione al quale rigorosamente senza scarpe qui c'è frutta e verdura pancake wow queste verdure con olive oil funghi pomodori e olive oil questo è tofu wow curry e riso ci siamo persi un pezzo c'è tutta la stazione pane e poi tutta la stazione uova fatta al momento che meraviglia che meraviglia buongiorno buongiorno questa è la faccia di chi sta per andare ad immergersi ore 8 del mattino colazione è fatta il mio corpo ragazzi è una bestia cioè adoro profondamente quando sa che deve fare le cose e voi sapete che cosa intendo presto lui le fa presto chi sa quindi immergersi così è un po' più leggeri e ora hello e andiamo in profondità arriveremo fino a 18 metri io non vedo l'ora siamo pronti saliamo sulla barchetta andiamo a Shark Island che non si vede e scendiamo a 18 metri sì Shark Island non è l'isola degli squali ha la forma di uno squalo ma magari qualche squaletto lo becchiamo squaletto abbiamo fatto tutte le immersioni stiamo facendo l'esame finale scritto oh che fai coppia t'ho visto eh sono stanco sono affamato cibo cibo thank you quello è il mio questa è la location questi sono i nostri piedini nella sabbia e laggiù c'è il mare ma ti ha fatto la burra no c'era già Jimmy dai vabbè insomma dopo tutta la giornata in mare siamo super affamati e avevamo voglia di pesce quindi buona cena ok buongiorno stiamo prendendo stiamo prendendo un taxi boat per raggiungere un'isoletta paradisiaca che c'è proprio qua davanti Kotao partono dei taxi da lungo la riva e con più o meno 20 no quant'è un 15 euro a testa è possibile raggiungere l'isola e la il ragazzo che ti porta ti aspetta lì tutto il giorno finché non hai voglia di ripartire quindi è andata e ritorna un servizio pazzesco ma soprattutto ci sono questi cuscini siamo sulla long tail boat ciao raga che meraviglia queste due isolette sono particolarissime perché sono collegate da questa striscia di sabbia noi adesso scaleremo fin lassù eccoli là ci andiamo anche noi per vedere tutto dall'alto che meraviglia siamo rimasti fino alle 4 e l'isola chiude perché è un'isola privata aperta dalle 10 alle 4 e raga alle 4 non c'è più nessuno meraviglioso noi l'abbiamo lasciato questa mattina lui ci ha detto tornerò a prendervi ed eccolo qua quando se n'è andato non sapevo cosa io li faccio ma no Jimmy secondo me rimane tutto il giorno prende e va via e Jimmy ok va bene solitamente i vecchi guardano i cantieri e oggi guardano Jimmy che monta la ruota guardano i cantieri 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 Grazie a tutti.